Bella a tutti ragazzi di qui, i drogati di Brawl Stars, scusate per il volume ma siamo da una parte importante stiamo facendo un video di Brawl Stars, che brutto inizio, sinceramente, allora cominciamo con un box opening veloce, schifoso ma veloce allargato, 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 non esce niente, non esce niente ma ci sentono col volume, si, 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 questo non è allargato scusate ma un amico un po' così dai, perché non arriva, dai che quando io avevo quattro, quattro casse, alla prima casse ho trovato Leon, me lo giuro dai per favore, là ci sto insistendo, ok per questo video arriviamo almeno a mille like, a mille mille like, ok, mille like, o chiudiamo il canale, ok, e non faremo più video, ma quanti iscritti avete? 3, 3, no, attenzione che siamo in 3 allora, 9 punti per pocio, 9 punti per pocio, 10 per, no, non sono sufficienti punti 13 per rosa, vediamo per favore, dai dammi gemme madonna, allora seguita anche il mio canale, mi raccomando, Gabio Luigi Gamer, gg per noi, che schifo di, vabbè, facciamo la prima partita zitto, l'abbiamo appena aperto, come vuoi che abbiamo certi iscritti, non lo so arriviamo a 5 iscritti, dai, per questo video, 5 iscritti, no, 100 like, almeno 100 allora, buono dynamite, visto che io sono un bastardo, va, andiamo fino a 1000 like ok, si, ok, tu lo sei, tu lo sei dai, prendi le casse, prendi le casse, prendi le casse sto prendendo le uccine, allora, iscriveteci se siete consolini o quelli che amano lion vabbè, così facciamo sponso rompi, poi ci mettono il copyright e ci viene a casa la polizia stai zitto ragazzi sono morto come un pollo perché non c'è connessione qua stiamo usando il glink che è caduto a terra prima ma vieni qua, pocio, vieni qua amardoso come gli tablet che stiamo usando, cazzarola no, la super vaffan c'è insugato io sono quello che c'è insuga no, al fine sta facendo tutto in su ma al fine sta facendo tutto rosa grande, gg no, 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 basta oh, eh, allora no, non ho usato la super, che trista eh, vabbè no, questa la perdi questa la perdi no, soffiamoci una terza posizione almeno questa la perdi ce la soffiamo, ve lo dico io questa la perdi la perdi ma muori, portaglio di schifo no, oddio maledetta, eh, abbiamo perso almeno ci siamo soffiati una quarta, dai no, dai, dai, dai ciao amico, sei morto vabbè, gg per noi gg per noi scusate a tutti per la tronzata che ha fatto gabli basta, sta zitto rompi il cazzo con ste censure raga, allora no, no censure, ok? le censure te le tieni per casa ma non ti mando nel video su youtube ma cosa vuoi carletto? ti mando a quel paese ma, ecco eh, mandalo, mandalo con la cattolina porco, porco e consegna la pizza la pizza in faccia madonna, burger di schifo meno due gabri ciao ragazzi ora abbiamo messo un altro brawler che secondo il mio parere è molto più forte di bombardino no in questa mappa no, diciamo però è counterabile chi ci siamo beccati? allora io fa fuori fa fuori della cassa fa fuori quella cassa porca puttana ora ora prendi la cassa e campera prendi la cassa e vanno tu stai zitto tu stai zitto dobbiamo solo prendere cassa non viene nessuno cioè facciamo cassa in due secondi neanche due in un secondo ok ora fa fuori fa fuori fa fuori fa fuori sei morto William non ci credo stiamo facendo i youtuber ma come fa dai per favore grande zio grande zio si sta con aiuto ciccio gamer abbiamo beccato grazie Lenovo Pro gg per lui guarda un uomo fantasioso come il nostro canale attenzione a Bull oddio i drogati di Brewster oddio l'hai ucciso però sei morto mi raccomando iscrivetevi il canale maledettina o sennò oddio amico resisti gg si ma quante persone pensate che vedono sto video non so eh non lo so tante però la unica nessuna non abbiamo ancora postata oggi è lo scontro finale adesso lo potete ora fermatevi tutto sei morto come una banana sei una banana oddio guarda qua guarda gg gg allora ma voi non ce ne facciamo mica boh allora dato che stiamo facendo partite di M mostriamo un po' i brawler che abbiamo cioè di Marda si perché non dirle direttamente abbiamo leone in grado 17 vattene possiamo usarlo leone leone pronti in singolo pronti in singolo vai e non è che ti manda via perché stai offrendo le scappe non è che ti manda via normalmente e te non ti manda via allora leone in singolo è il grado 17 vediamo come facciamo il culo no non cusceremo ma per favore guarda belle cassine belle cassette sta arrivando prendi le scappe prendi le scappe non hai preso il power up non hai preso il power up che idiota dammi qua io sono pro con leone ma che si e tu che cosa siamo cinque amici che litigano e non ho visto che siamo pazzi ok va bene gg per noi veramente cosa ti vuol dire il nostro nome sarebbe interrogati di blonstarts anche se dovremmai essere i cinque canzoni si infatti io ritiro dai basta non posso cinso gare io sono bello divertente dico parolaccia google che si è bellissimo proprio oddio ragazzi gg per noi c'è manco youtube chi già fa ste robe altro che youtube kids qua dobbiamo andare youtube parolaccia gamer non so si youtube parolaccia gamer così possibile mi sta laggando gg ma che ma gg vuol dire che è la giocata non vuol dire che è una merda ok gg per noi ha detto che c'è un corvo tranquillo non mi ha manco beccato ha beccato solo il mio amico bellissimo mi sta laggando dammi sto wifi ma secondo voi come ci sente la voce ti dico fermete roba ti dico fermete come grax ma vieni qua ma vieni un po' qua ti dico fermete Stai morendo Non so Sono morto come una banana Uccidilo Vendicami Bene Sconto finale Sconto finale Lui muore Non è detto Ci sono anch'io Ho anche la super Stai morendo Dai che forse In prima posizione Ci riusciamo Dai 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 Cosa vuoi Shelly Eh Le pizze vuoi prendere Madonna Si vuole proprio Prendere le pizze A che gusto Al gusto Di per Di Di droga No Al gusto Al gusto di Leon Ma vieni un po' qua Che Ti fai Così roba E sei troppo forte Ristaltiamo con lui Ma perché mi dite Pagolacce Mamma mia Ah Questo è il pallonico Infatti anche la Io non le diceva Però Perché non ristarti Sei una merda Ma perché YouTube Non c'è Pagolacce Perché Sarebbe una merda YouTube Ah appunto Porca puttana Questo mi dice Ristoglio le parolacce Quando YouTube È tutto Parolaccia Infatti YouTube È una parolaccia C'è un colt Che si chiama Spike C'è un colt Che si chiama Spike Beh la logica Cioè infatti Noi ci chiamiamo Leon Ma usiamo Leon Lui si chiama Colt Si chiama Spike Ma usa Colt C'è proprio Il genio della matematica Sì ovvio Bello eh La letteratura Cioè ma allora Cos'è utile Cos'è Metti Spike Porca troia Te ne vai Ma il mio amico è morto Cioè c'è proprio un genio E allora Lui Ha un genio Perché è un genio Oddio quella rosa Mi fa il culo nero Mi fa il culo nero Quelle rosa Non urlate Per favore Aspetta che rinasce il mio amico Rinasce il mio amico Grande GG per me Diventi invisibile Per scappare Ok mi mette un attimo qua Secondo me c'è la qualcuna Ok Oddio quel Frank Dobbiamo ucciderlo Dobbiamo sta ucciderlo Dobbiamo Oddio Aspetto che rinesca Così gli do due paure appini No li do lui Sì però rinesce amico Eh 5 secondi C'è scritto sopra Eh caro Lo so però Scemo Uno rinasce il coglione E ora che quello Ecco adesso ha due paura Meglio per lui È un colto maxato GG È maxato Vediamo se c'è qualcuno No non è maxato È maxato come il mio nome Io sono maxato Lui non è Ah sì è maxato anche lui GG per noi Ah ma c'è un brocchino Che campero Beviti una brocca di caffè Capito? Si chiama broccolo amico Si chiama broccolo Te dico fermete Leone Te dico fermete Contro finale Porca Uccidiamoli tutti Guarda Catch Brawler Catch Brawler Catch Brawler Catch Brawler Ultima partita Poi chiudiamo il video Ok Ultima No ultima partita Come ho detto io Raggiungiamo i 1000 like O chiudiamo il canale E i 5 iscriviti Ma boh Noi non chiudiamo il canale Subito dai facciamo un po' di scena Prima di morire Dai 5 iscritti 5 iscritti 10 like Ok 5 iscritti No dai c'è un bull che sta fermo Vaffanculo Però non chiudiamo il canale Perché se no No C'è Sally Basta Scemo E dopo sono io Quello che mi rida Ok Ora chiudiamo il canale Perché mi sono stufato Di questi che urlano Come dei clown No io non mi sono stufato Voglio vedere Le cacchette che facciamo Eh si Allora Bacchiamo con la scella Di Questo canale Da quel che ne so Durerà tutta l'estate Sì Sì Poi Anche il prossimo Anche autunno In vero Poi continueremo Però non si saprà Si faremo video in con click Guardi quella che farà Viandano Oh porco Stico è son pro Allora L'altra Quella che ho C'è politica Lei dovrebbe Allora Facciamo così Questo canale Dura sicuro Fino a settembre Se a settembre Aviamo 10 100 iscritti Poi delle mie video Un po' più frequentemente Ci stiamo Ok Gigi per me Sono andato dall'altra parte Con l'invisibilità E là c'è una rosa C'è una rosa Che probabilmente Il suo compagno È stata È usata Ha sprecato la ulti Guarda Guarda Gigi Gigi No 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 Ma aveva la ulti Che fai Ma non l'ho vista Eh non l'ho vista Qua va prima Io poi Io c'ho I Sto per pisciarmi addosso Che io Uccide quello è il primo Bastardo No veramente Mi sto per pisciare addosso E non è perché mi sgappa E poi c'è È per l'adrenalina No è perché sono bastardo Ecco basta Allora Ok Sotto nei commenti A chi si scrive Se indovinate Dove stiamo registrando il video Vi faremo una sorpresa No ma perché Voglio pure con l'invisibilità Sono veramente pollo però Vi regaleremo Puscialo Puscialo Ok Sì No è rinato la rosa È rinato la rosa Maledetto Cocco Vecchie Ok con questo Chiudiamo il video Se no Buogavrò un po' Bye Allora ci vediamo in un altro video Guardate qua C'è incredibile E poi ci vediamo ad un prossimo video Che sarà ovviamente Avremo le 1800 Chiedete Chiedete Nei commenti Se volete meno parolacce Da Samuele Sotto Sotto Scritto E ciao Aspetta Vi mostro dove sono io Nel mio account Vero Questo non è mio Sì È di Leonardo Galler Ecco sono qua 10500 Ciao Sotto